Buonasera a tutti, sono Ferdinando Guttard di Edicum Edizioni ed Edicum Eventi, che è la parte che si occupa dell'organizzazione dei webinar per Edicum Edizioni. Il webinar di questa sera, come vedete dal titolo, si occupa proprio di muratura ed fa parte di un ciclo di webinar che abbiamo organizzato negli ultimi mesi, proprio con il consorzio Porton e con T2D, che è un'azienda di laterizi in Porton, sui vari temi della costruzione in muratura. Oggi è di turno il problema della sicurezza strutturale e parleremo in questo caso di muratura armata. Con noi ci sono due tecnici, che sono l'architetto Luca Mazzucchelli, che è un tecnico appunto di T2D, mentre è collegato anche con noi l'ingegnere Flavio Mosele del consorzio Porton, che tratterà gli argomenti per la maggior parte del webinar di oggi approfondendo proprio gli aspetti, le tecniche, le soluzioni anche progettuali e realizzative per realizzare una muratura che risponda alle caratteristiche di sicurezza sismiche e quindi vedremo un po' come si possa realizzare questo tipo di murature, quali caratteristiche abbiano e un po' di, non di segreti, ma diciamo di indicazioni su come operare in fase progettuale realizzativa. Come sempre, vi ricordo che potrete interagire con noi utilizzando il pannello domande, tipicamente alla vostra destra, il pannello di GoToWebinar su cui potrete scrivere i vostri quesiti, dubbi o quant'altro, io vedrò di raccogliere per tutto la durata del webinar e poi a nostri relatori in maniera anche da avere delle risposte e ulteriori indicazioni sugli argomenti che tratteremo oggi. Vi ricordo anche che le slide che vedrete nella presentazione le avrete disponibili via mail e a chiusura del webinar interdomani riceverete una mail con un link dal quale scaricare tutte le slide appunto. Vi invito quindi a seguire il webinar, mettetevi comodi, se volete utilizzate degli auricolari e delle cuffie, normalmente l'audio risulta migliore e ti permette un miglior aspetto. lanciamo subito, andiamo all'inizio lasciando la parola all'architetto Luca Mazzucchelli che intanto ci illustra un po' quelle che sono le caratteristiche dell'attrizio e delle introduce anche il tema di oggi che è proprio quello della sicurezza strutturale. Prego Luca, puoi iniziare. Grazie Ferdinando, un saluto a tutti, buonasera e un ringraziamento particolare per la vostra disponibilità. Oggi, come ha detto Ferdinando Gottabelle di con noi eventi, parleremo di sicurezza strutturale e in principale modo della muratura armata. Noi come azienda T2D lavoriamo o perlomeno cerchiamo di avere come obiettivo quella di produrre costruzioni che siano sicure, che siano durevoli, che siano confortevoli e che siano sostenibili. Oggi affronteremo il tema della sicurezza. In particolar modo, noi sappiamo che quando parliamo di sicurezza parliamo sì di resistenza al fuoco, però il caso di oggi è quello della sicurezza strutturale, della sicurezza sismica e quindi in caso di eventi sismici. Fortunatamente o sfortunatamente, noi come azienda abbiamo uno stabilimento produttivo, quello diciamo più importante di tutta la struttura, che è ubicato proprio nel cuore del centro Italia, proprio dove sono successi gli ultimi eventi sismici. Questo ci ha permesso di avere comunque un'esperienza di oltre 100 anni dalla quale siamo partiti con una ricerca fatta subito dopo gli ultimi eventi sismici e abbiamo creato il Safety Lab Centro Italia, che anche grazie al supporto del consorzio Porton ci ha permesso di analizzare dopo l'ultimo, in particolar modo dopo l'ultimo evento sismico, quindi quello di Amatrice, di prendere in esame oltre 120 edifici fatti con la nuova concezione. E cosa abbiamo riscontrato? Abbiamo riscontrato che comunque tutti gli edifici hanno superato l'intera sequenza sismica e hanno permesso la salvaguardia della vita umana, quindi questo è già un dato importante. Il 90% di questi 120 edifici non ha avuto nessun danno e soprattutto quelli fatti con la muratura armata sono quelli che sono risultati più performanti e non hanno addirittura avuto nessun tipo di danno rilevante. Ecco, con questa piccola mia introduzione lascio poi la parola all'ingegnere Flavio Mosele che tratterà il tema della giornata. A dopo. Sì, buongiorno. Quindi entriamo oggi sull'argomento muratura armata, un po' come seguito dell'appuntamento del mese scorso in cui avevamo parlato della progettazione della muratura portante, le azioni sismiche in generale, ma ritroveremo infatti, per chi ha seguito anche l'altra volta, alcuni punti di contatto e alcune evidenziature di quali siano i vantaggi e le qualità della muratura armata. Oggi quindi iniziamo a parlare della muratura armata, in particolare cercando di capirne i concetti alla base. Vedete banalmente un edificio in muratura ordinaria, il passaggio alla muratura armata è costituito dall'inserimento di armature verticali e armature orizzontali, le seconde abitualmente sono inserite nei giunti di allettamento, nei giunti orizzontali di malta. Parliamo di piccole quantità di armatura e tra poco vedremo esattamente di che quantità stiamo parlando. Il concetto della muratura armata parte appunto come sviluppo della muratura ordinaria e porta ai massimi livelli di resistenza, capacità sismica i sistemi in muratura. La muratura portante ordinaria è tendenzialmente non resiste a trazione, ha delle capacità di spostamento non troppo elevate e moderati capacità di dissipazione di energie e di utilità. Essendo priva di resistenza a trazione, lo step immediato da realizzare, un po' come capita per il cimento armato, è quello di inserire adeguatamente ferri di armatura. Quindi vedete lo schema in azzurro su questi schemi di comportamento a flessione e taglio delle murature, sostanzialmente sono le barre d'armatura verticale e orizzontale. Il concetto qual è? Non è solo inseriamo della trazione, è proprio facciamo lavorare il complesso murario in maniera diversa perché l'obiettivo è quello di sfruttare anche a pieno la resistenza a compressione che la muratura in laterizio ha come cavallo di battaglia. Quindi dal punto di vista della pressoflessione cosa accade? La sezione tende a parzializzare, ma la presenza dell'armatura sul lato teso permette di avere una riduzione della parzializzazione e anche un contributo dell'armatura. Vedremo poi nel dettaglio il meccanismo di resistenza a pressflessione si calcola con concetti del tutto analoghi a quelli del cemento armato. Da un punto di vista del comportamento a taglio e quindi poi della resistenza, la presenza dell'armatura fa sì che il meccanismo resistente cambia al di là dell'effetto di cucitura che realizza l'armatura orizzontale di fronte alle fessurazioni diagonali tipiche del taglio, c'è anche proprio un meccanismo diciamo di traliccio alla mors come capita anche nelle travi dove appunto c'è il puntone di muratura, la trazione della staffa e la trazione dell'armatura verticale che vanno a costituire il meccanismo resistente. Quindi in entrambi i casi non è solo resistenza a trazione, è proprio il comportamento nel suo complesso che trasforma la muratura ordinaria in un sistema costruttivo che è la muratura armata, la quale appunto è caratterizzata non solo da resistenze maggiori, è caratterizzata da capacità di spostamento maggiori, dissipazione di energia maggiori e quindi tutti i parametri di utilità, non da ultima, tutti i parametri che sono importanti per raggiungere i massimi livelli di sicurezza delle azioni sismiche. Tutto questo come è stato sviluppato e come è stato capito? Tramite decenni di attività di sviluppo e ricerca, prove sperimentali che vanno dalla singola parete fino a edifici a scala reale e attraverso tavoli vibranti. Punto di riferimento è l'idoneità tecnica conseguita dal Consorzio Porto in Italia per il sistema di muratura armata. Tutto questo ha poi trovato riscontro a livello normativo. Nel Decreto 96 per la prima volta si parla in maniera esplicita del sistema costruttivo muratura armata. A questo si sono aggiunte le ricerche successive e gli sviluppi successivi che hanno riguardato anche lo sviluppo di software di calcolo che permettono di calcolare adeguatamente con metodi più o meno complessi le costruzioni in muratura ordinaria, ma oggi parliamo in particolare della muratura armata. Ricerche sperimentali e da ultima anche l'attività di ricerca di ricognizioni post-remoto che ci ha permesso di andare a vedere in particolare nei terremoti Emilia 2012, Centro Italia 2016, per la quale appunto il collega Mazzucchelli faceva riferimento al Safety Lab di T2D. In queste ricognizioni cosa abbiamo potuto vedere? Abbiamo potuto vedere che i sistemi costruttivi di muratura armata che proponiamo, progettati secondo le norme e correttamente messi in opera, funzionano, funzionano molto bene. Infatti generalmente non hanno rilevato, non hanno fatto rilevare nessun tipo di danneggiamento. Chi volesse approfondire questa tematica lascio come l'altra volta i riferimenti bibliografici. Quello che mi interessa adesso sottolineare è che tutte queste attività di studio, ricerca, sviluppo che si sono sviluppate negli ultimi 30 anni, nei 40 anni ormai, sono sostanzialmente poi state recepite all'interno delle attuali NTC 2018 attraverso l'ordinanza prima e il decreto NTC 2008 che sono state recentemente sostituite. Quindi tutto quello che diremo oggi farà riferimento all'NTC 2008 e relativa circolare e esplicativa. Possiamo passare al prossimo argomento ma tra le NTC 2008 e quelle 2018 per quanto riguarda la muratura armata ci sono grossi cambiamenti? No, in realtà tra le norme tecniche 2008 e 2018 non ci sono grossi cambiamenti per le murature armate e questo è proprio indice del fatto che stiamo parlando di un sistema costruttivo ormai consolidato sia da un lato di metodologia e messa in opera che da un punto di vista di progettazione. Ci sono stati gli adattamenti che poi anche vedremo sugli spostamenti allo stato limite di collasso piuttosto allo stato limite di vita perché per le analisi non lineari di questo si parla con le NTC 2018 però la cosa positiva per la muratura armata è che non ci sono stati stravolgimenti ma tante conferme. Quindi entriamo appunto in quelle che sono le regole e i materiali che costituiscono le murature armate. La muratura armata banalmente è costituita da innanzitutto dei blocchi blocchi che devono essere blocchi semipieni sostanzialmente questi devono essere conformati geometricamente in modo da creare dei vani verticali in cui sia possibile iscrivere un cilindro di 6 cm di diametro stiamo parlando di questi perché? Perché questi vani devono ospitare l'armatura verticale. Quindi questa è una caratteristica della geometria del blocco che poi assemblando quello spalsamento di corsi successivi deve creare questi vani verticali continui. Dopodiché il blocco stesso deve avere setti rettilinei e continui nell'estensione nel piano di estensione della parete in modo da garantire elevata robustezza. Dopodiché la resistenza a compressione verticale deve essere almeno 5 megapascale e 1,5 megapascale per la direzione orizzontale resistenza sempre a compressione. Questi ultimi tre punti ovviamente sono punti che riguardano anche la muratura ordinaria ma va ricordato che anche per la muratura armata bisogna applicare queste regole aggiuntive nella fattispecie per i blocchi per poterle utilizzare in tutte le zone sismiche quindi AGS qualunque esso sia anche superiore allo zero più o meno zero stante 5G. La mancanza di questi requisiti limiterebbe la muratura armata a quelle zone e ha poco senso insomma. Parlando della malta è il secondo elemento che costituisce la muratura dobbiamo sempre utilizzare una malta M10 cioè che resiste 10 megapascale a compressione sia per i giunti orizzontali e verticali che sono tradizionali i giunti di malta cementista di circa un centimetro un centimetro e mezzo di spessore ma anche per il riempimento dei vani verticali in cui si inserisce l'armatura è prevista la possibilità anche di utilizzare un conglomerato cementizio C12-15 per il riempimento di vani verticali quindi questa è una scelta. L'armatura devono essere barre ad aderenza migliorata analogamente alle opere in cemento armato con acciaio B450A o C per le armature orizzontali sono consentiti l'utilizzo anche di tralicci praticamente in questo caso vedete qui i tre schemi essenziali si possono usare barre ad aderenza migliorata con un uncino AC che deve andare attorno alle armature longitudinali oppure si possono piegare ad hoc le barre orizzontali oppure si può utilizzare il traliccio comunque anche nel caso del traliccio le terminazioni è importante che vadano piegate intorno alle armature verticali questo serve sia per l'armatura orizzontale per avere il necessario ancoraggio sia per l'armatura verticale che dà un effetto di confinamento quindi qui vedete degli schemi di posa per le due tipologie primarie di blocco il blocco ad hoc che quindi se guardiamo questo questo punto in un corso dovrà essere infilato dall'alto e un corso potrà essere accostato di fianco all'armatura verticale rompendo appunto le cartelle che ci stanno davanti per il resto verrà realizzato il giunto verticale normale invece nel caso del blocco a bright il grosso vantaggio è costituito che la posizione del foro asimmetrica e regolata in base alla lunghezza spessore del blocco ci permette con un unico blocco semplicemente roppendo la cartellina davanti di realizzare vedete un angolo senza la necessità di nessun pezzo speciale qua serviva il mezzo blocco in questo caso vado tranquillamente col blocco bright senza problemi e lo stesso capita poi per le armature all'interno della parete del muro avrò bisogno di un mezzo blocco solo nel caso della terminazione qui vedete anche un altro dettaglio appunto quello che noi suggeriamo di fare è inserire le armature orizzontali nel letto di malta con delle bacchette tagliate in base alla dimensione della parete e andare con una forchetta AC attorno alla armatura verticale ovviamente garantendo la lunghezza di sovrapposizione che sostanzialmente come per cemento armato parliamo di 60 diametri è importante anche importante il nostro suggerimento è quello di disporre armatura orizzontale nelle pareti in direzione X e nel corso successivo nelle pareti in direzione Y per evitare sovrapposizioni all'interno dello stesso giunto d'altra parte ci sono tanti professionisti che insomma realizzano questo tipo di sovrapposizioni vedremo poi anche delle foto parlando di armature è importante conoscere la disposizione delle armature quelle orizzontali vanno disposte con barre almeno F5 all'interno dei letti di malta con un interasse non superiore 60 cm il che siccome un blocco di solito è alto 19 cm 20 cm con il giunto di malta vuol dire ogni tre corsi e oltre a questo va rispettata la quantità la percentuale minima di armatura e anche la percentuale massima per capire un po' di più questi numeri facciamo un esempio pratico abbiamo tre metri di parete abbiamo staffe due barre F6 ogni giunto di malta che disponiamo a un interasse di 40 cm quindi ogni altro corso significa che su tre metri avremo sette giunti armati la percentuale di armatura è banalmente lo 0,0 44% quindi rispetto alla quantità minima qui stiamo parlando della sezione verticale del muro ma potevo scegliere anche un'altra opzione quindi utilizzare dei F8 aumentare l'interasse solo i 5 giunti armati però vedete che la quantità minima è garantita i F5 sostanzialmente in commercio neanche sono tanto presenti di solito si utilizzano i F6 o i F8 passiamo invece all'armatura verticale l'armatura verticale è costituita da due centimetri quadrati che significa sostanzialmente un F16 ad ogni estremità all'intersezione di ogni parete portante alla estremità di ogni apertura e comunque con un'interasse che non deve superare i 4 metri anche in questo caso ci sono quantità percentuali minime e massime di armatura 0,05% la minima e 1% la massima prendiamo questa parete che ipotizziamo essere 1 metro e 10 spessore 30 centimetri sono obbligato a mettere i 2 centimetri quadrati per ogni estremità quindi avrò una percentuale di armatura verticale sulla sezione orizzontale di 0,122% quindi vedete ben superiore 0,05% per arrivare a quel valore di minimo dovrei addirittura realizzare una parete di 2 metri e 70 sostanzialmente spessore 30 questo mi interessa mostrarvelo non solo per avvicinarvi da un punto di vista pratico a che cos'è la muratura armata ma anche perché sia tangibile che la quantità minima di armatura che viene inserita all'interno della muratura è veramente una quantità minima sono quantità molto basse se le confrontiamo ad esempio con altri sistemi pareti in cemento armato o cose di questo tipo vediamo che una piccola quantità di armatura ci fa fare una grande balza in avanti da un punto di vista di risposta strutturale vedremo poi infatti a livello addirittura di edificio che cosa significa avere muratura armata con quantità di armatura come quelle che stiamo vedendo di minima questo è per una domanda che ci arriva mentre ricordo a tutti anche che ci ha raggiunto più tardi che potete utilizzare il pannello domande di GoToWebinar per porre i quesiti a Flavio Mose ma anche poi all'architetto Luca Mazzucchelli che ci ha raggiunto più tardi di nuovo però intanto una domanda che ci consente anche di dare un chiarimento quindi un po' a tutti non solo a chi l'ha posta ma generalmente le quantità minime di armatura sono sufficienti anche per ovviamente rispondere alle richieste in zone sismiche questa è una bella domanda nel senso che le quantità minime che vengono riportate in normativa effettivamente in una gran quantità di casi sono sufficienti per per garantire appunto la verifica soddisfatta in poche parole possono esserci e questo dipende dalle condizioni dell'edificio edifici abbastanza irregolari piuttosto che accelerazioni sismiche particolarmente elevate che possono portare a un incremento della disposizione di armature per lo più di armature verticali perché le armature orizzontali diciamo che posso dire che un valore già tra i valori massimi è rappresentato dai due fiotti due fiotto ogni altro corso poi possono presentarsi anche all'interno di un progetto non so o l'edificio particolarmente irregolare che si trova in zona sismica 1 c'è una parete particolarmente caricata magari dovrò armare ogni ogni giunto però sono casi veramente estremi in una grande quantità di casi già le quantità minime sono sufficienti questo mi permette anche di far vedere che in questo tipo di edificio che è un edificio regolare vedete che sostanzialmente nella maggior parte dei casi ci sono un fissidici per lato in qualche caso troviamo due fissidici ad esempio in questa parete di spine interna quindi ecco questa è già una risposta diciamo esemplificativa di questo edificio con questa armatura vedremo poi l'effetto che ha a livello a livello di capacità e di comportamento sismico rispetto al realizzare lo stesso edificio in muratura ordinaria ecco qui una parentesi per per segnalare che andiamo a concludere quelli che sono i sistemi di muratura armata utilizzabili sostanzialmente esiste questo sistema che è stato lanciato della T2D appunto è brevettato muratura armata 2.0 è sostanzialmente uno sviluppo del concetto di muratura armata ma sviluppato legandolo anche alla prestazione e all'efficienza energetica infatti con questo sistema costruttivo c'è la possibilità di realizzare muratura armata con anche quantità di armatura verticale anche importante perché stiamo parlando ad esempio di 4F10 4F12 volendo anche 4F14 vedete che è possibile realizzare un pilastrino una muratura 45 cm che assolve anche la prestazione energetica quindi resistenze molto elevate e capacità di isolamento termico la famosa trasmittanza minore di 0,25 ci permette di andare in tutte le zone e senza la necessità dell'inserimento di cappotto questa è una overview di un video che trovate anche su youtube vi fa vedere appunto la disposizione in angolo dell'armatura verticale all'intersezione delle pareti portanti ai lati delle aperture con l'armatura orizzontale di cui abbiamo già parlato anche in questo caso tutte le percentuali che abbiamo già visto vanno garantite nella fattispecie significa parlare di sostanzialmente due fiotto ci sono ad esempio casi come quello che stiamo vedendo di questo cantiere dove sono stati disposti anche tre fiotto ogni altro corso questo dipende un po' anche dall'azione sismica e dal tipo di progetto però quello che mi interessa sottolineare è che appunto c'è la possibilità di intervenire a partire da piccole quantità di armatura a crescere in funzione del grado di sismicità e della necessità progettuale questa è una tabella riassuntiva che abbiamo già introdotto l'altra volta che sostanzialmente ci dà un colpo d'occhio immediato sul tipo di blocco che posso utilizzare e tipo di giunto che posso utilizzare per realizzare la muratura armata l'unica possibilità di avere blocchi lisci che ci permettono di fare giunti verticali o orizzontali di tipo tradizionale con foratura 45% in tutte le zone sismiche quindi vanno esclusi i blocchi con tasca verticale si possono utilizzare per la muratura ordinaria ma non per la muratura armata vanno esclusi i blocchi che hanno i setti obliqui setti nel piano di estressione della parete devono essere rettilinei continui per un concetto di robustezza tutte le formule e i parametri meccanici si basano su queste ipotesi di partenza la possibilità di utilizzare blocchi con setti inclinati è ristretta solamente alle accelerazioni molto basse il che ha poco senso poi un altro elemento importante giunti sottili non si utilizzano per la muratura armata innanzitutto perché insomma già il giunto sottile esce molto limitato dalle norme anche per l'utilizzo in muratura ordinaria con limiti tra lo 0,085 e lo 0,15G quindi poco utilizzabile in Italia dopodiché ancora una volta tutte quelle che sono tutti quelli che sono i parametri i metodi di progetto che sono inseriti in normativa derivano da ricerche che sostanzialmente si basano su blocchi di questo tipo giunti di malta tradizionale blocchi lisci e per la maggior parte di solito tra l'altro blocchi in laterizio detto questo siamo pronti per passare a quelli che sono i parametri meccanici della muratura armata infatti un po' come per la muratura ordinaria anche per la muratura armata i parametri essenziali sono sostanzialmente questi quattro la resistenza compressione caratteristica la resistenza taglio in assenza di carichi verticali caratteristica dai quali poi discende il modulo di elasticità normale e tangenziale banalmente mille volte la resistenza compressione è il 40% di E questi poi vengono corretti con i coefficienti parziali di sicurezza che variano a seconda della categoria di blocco e dal tipo di malta che sto utilizzando e anche della classe di esecuzione che sto applicando tendenzialmente in base alle nuove prove di accettazione richiesta NTC 2018 mi trovo sempre in classe di esecuzione 1 i coefficienti parziali di sicurezza partono da quelli per azioni non sismiche e vengono ridotti del 20% per passare alle azioni sismiche però bisogna sempre garantirle maggiori di 2 quindi vediamo che questa colonna diventa 2 e questa 2 2 4 quindi le resistenze che vado a utilizzare in caso di analisi lineari vengono corrette con il coefficiente parziale di sicurezza in base alla categoria del blocco e del tipo di malta e per l'analisi non lineare invece vi ricordo che si utilizza direttamente il valore medio della resistenza a compressione e taglio come si determinano allora queste resistenze che abbiamo capito essere quelle fondamentali entrambe compressione e taglio si determinano attraverso due modalità determinazione sperimentale o determinazione tabellare per quanto riguarda le murature che si possono cioè i tipi di murature che si possono utilizzare per fare muratura armata sostanzialmente possiamo tranquillamente utilizzare il metodo tabellare il quale per la resistenza a compressione è valido solo per murature per così dire tradizionale elementi pieni semipieni giunti orizzontali verticali ordinari circa un centimetro di spessore quindi ci troviamo non so quella classe di malta m5 valore dichiarato la resistenza caratteristica è 5 megapascal la resistenza fk a compressione della muratura è 3,3 ecco le norme tecniche nuove hanno inserito anche la relazione di passaggio tra resistenza a compressione media e caratteristica del blocco che tante volte può utilizzare può essere risultare utile nella fattispecie infatti abbiamo sostanzialmente murature che partono da blocchi di resistenza di almeno 18 megapascal di resistenza media il che significa 14,4 di resistenza caratteristica si va a fare l'interpolazione lineare all'interno di questa tabella utilizzando una malta m10 obbligatoria per la muratura armata e otteniamo la resistenza a compressione della muratura così realizzata 6,5 megapascal per la resistenza a taglio in assenza di carichi verticali il tutto è ancora più semplice perché per blocchi di atterrizio pieni semipieni forati basta conoscere la classe di malta nel nostro caso abbiamo detto per la muratura armata m10 e otteniamo fvk0 0,3 vi ricordo poi che fvk0 è un parametro è un elemento che entra in una formula tipo morculomb in cui poi incide anche il carico verticale quindi da fvk0 più carico verticale o più aumento la mia resistenza a taglio fvk fino a un limite che è imposto dalla normativa in base alla resistenza del blocco quindi anche qua torna di nuovo il concetto di robustezza per agevolare questi passaggi che per carità sono semplici ma possono diventare anche labirintici abbiamo messo a punto un applicativo liberamente utilizzabile sul sito porto previa registrazione che dai dati del blocco e della malta e indicando il tipo di muratura restituisce tutti i parametri meccanici della muratura scelta chi volesse approfondire anche in questo caso il tema lascio dei riferimenti allora tutto quello che abbiamo visto fino a qua la resistenza compressione a taglio i moduli elastici valgono tanto per la muratura ordinaria quanto per la muratura armata a parità di resistenza del blocco e della classe di malta ottengo gli stessi identici numeri ma quindi dove sta la differenza tra muratura ordinaria e armata è quello che vi ho detto all'inizio sta nella collaborazione della muratura stessa con le barre di armatura passando a meccanismi resistenti che sono diversi da quelli della muratura ordinaria che abbiamo visto prima e che andiamo adesso a dettagliare per la pressoflessione proprio come si fa per una sezione di cemento armato si va a ipotizzare che le sezioni siano piane si va a ipotizzare che la deformazione massima della muratura sia il 3,5 per mille quella di trazione dell'acciaio ho teso invece 10 per mille intendo questo 10 per mille 3,5 per mille e calcolo il momento resistente quindi anche lì un po' come succede per il cemento armato è possibile utilizzare lo stress block con profondità 0,8 x e 0,85 resistenza con pressione e un po' come succede per il cemento armato si vanno a costruire i domini resistenza azione verticale e momento e cosa succede invece per la resistenza a taglio la resistenza a taglio abbiamo detto appunto è un po' più complessa perché va a considerare un meccanismo appunto a traliccio ma la formula che si riesce a utilizzare per interpretare questo meccanismo è estremamente semplice è costituita da due contributi il contributo della muratura e il contributo delle armature orizzontali semplicemente vedete mi interessa sottolineare che anche sul contributo della muratura si vede l'effetto della presenza dell'armatura verticale cioè D che è la distanza tra l'embo compresso e il baricentro dell'armatura attesa e D proprio perché c'è l'armatura verticale quindi già solo mettere l'armatura verticale mi fa aumentare la resistenza poi c'è il contributo delle staffe diversamente la muratura da sola avrebbe una lunghezza compressa proprio per la parzializzazione della sezione molto più piccola quindi anche la resistenza a taglio ha un meccanismo complesso un po' come succede per la pressoflessione in cui l'armatura mi permette di sfruttare appieno la resistenza a compressione che è il cavallo di battaglia della muratura quindi questo ci permette di fare dei salti in avanti molto rilevanti passiamo adesso invece a livello globale di edificio parlando appunto di organizzazione strutturale diciamo che tutto quello che abbiamo già visto la scorsa volta per la muratura ordinaria è applicabile per la muratura armata facendo gli opportuni distinguo sicuramente il comportamento scatolare deve essere sempre garantito quindi vanno ben distinti e concepiti i muri portanti di controvento l'orizzontamento che ripartisca può essere più o meno deformabile ma l'importante è che riesca a ripartire opportunamente le azioni orizzontali e ci devono essere i vari collegamenti il cordolo per collegare gli elementi verticali le murature con gli elementi orizzontali il sole eccetera eccetera segnalo appunto che le murature resistenti alle azioni sismiche per la muratura ordinaria devono rispettare questa relazione cioè devono essere lunghe almeno il 30% della loro altezza questa cosa vale solo per la muratura non armata quindi le murature armate sono dispensate da questo requisito poi vi segnalo la snellezza della parete perché appunto per la progettazione e operazione di sismi che vedremo che viene limitata 20% di snellezza significa che banalmente con una muratura a 30 cm di spessore posso anche raggiungere i 6 metri di altezza H0 è infatti l'altezza libera di inflessione che nel caso peggiore è appunto uguale all'altezza di interpiano ok l'importanza dei cordoli della diaframma ne abbiamo già parlato passiamo alla progettazione di operazioni sismiche qui sostanzialmente quelle che sono le regole di come dire simmetria in pianta e in altezza che devono essere applicate per tutti i sistemi costruttivi per tutti gli edifici per quanto possibile valgono ancora per la muratura anche per la muratura armata quindi si vuole sempre una struttura ipotetica per statica regolarità che significa forme simmetriche distribuzione tra massa e rigidezza pensate correttamente rapporti tra lato lungo e stretto del rettangolo in cui si iscrive il nostro edificio e poi anche la regolarità in altezza quindi gli elementi resistenti alle azioni orizzontali l'ideale è portarli dalla fondazione fino alla copertura e mantenere anche una massa e rigidezza abbastanza costanti se le facciamo variare cercare di farle variare gradualmente queste che sono regole che valgono per tutti i tipi di edifici e tecniche costruttive vengono appunto riprese per la muratura in generale quindi piante compatte simmetriche evitiamo le pareti in falso e andiamo con i muri della fondazione fino alla sommità poi pareti in falso in qualche caso si possono fare ma vanno correttamente gestite ok gli orizzontamenti le coperture non devono essere spingenti l'interesse massimo tra un salario successivo e 5 metri rimanendo nell'ambito delle metodi di progetto che ci vengono consentiti poi le strutture di fondazione anche se molto importanti devono essere realizzate in CA devono essere continue possono essere platee possono essere travi di fondazione travi rovesce ma può anche essere un intero piano cantinato semi interato basta che questo sia realizzato in pareti in CA e opportunamente centrato con le pareti della sovrastruttura in muratura sia essa ordinaria che armata poi un dettaglio appunto su questa tabella che sono regole geometriche da rispettare per considerare le pareti resistenti ai sismi bisogna garantire uno spessore minimo 24 cm per la muratura ordinaria come per la muratura armata bisogna garantire la snellezza di 12 e 15 per la muratura armata per le azioni non sismiche era 20 quindi questa differenza è rilevante perché con i 30 cm di prima muratura ordinaria mi fermo a 3,60 m muratura armata raggiungo i 4,5 m quindi quando devo fare delle zone giorno a doppia altezza mi può far molto comodo e poi un altro parametro che è il rapporto tra la lunghezza della parete diviso l'altezza dell'apertura adiacente alla parete di cui mi sto interessando il rapporto minimo deve essere 0,4 per la muratura ordinaria invece non ho nessun limite per la muratura armata questo assomiglia un po' a quel 30% dell'altezza che era richiesto per la muratura ordinaria e non per la muratura armata infatti se ho una finestra classica altezza di 1,40 m la lunghezza minima che devo garantire quindi la finestra di 1,40 m la lunghezza ai lati di questa finestra deve essere almeno 56 cm diciamo che lo 0,3 dell'altezza interpiano era più restrittivo per la muratura armata nessuna restrizione quando ho una porta 2,10 m vediamo che gli 84 cm diventano più restrittivi dello 0,3 H che mi dava 80-81 cm invece per la muratura armata non ho nessuna limitazione quindi la cosa che mi interessa sottolineare per la muratura armata abbiamo molta libertà anche per quanto riguarda le altezze di nuovi edifici non abbiamo nessun limite invece qualche limite c'è per la muratura ordinaria perché potrei farla con giunto verticale a secco giunti sottili prima appunto citavo anche i giunti sottili i giunti sottili non possono andare oltre i due piani fino a 0,15 g quindi avere una limitazione del genere è un po' pesante in qualche caso la muratura armata invece non avendo problemi di giunti sottili perché non si fanno giunti verticali a secco non si fanno perché deve essere giunto o riempito va liberamente fin tanto che la verifica è soddisfatta il dettaglio costruttivo del cordolo di piano è uguale identico a quello della muratura ordinaria quindi è consentito l'arretramento del filo esterno secondo la regola del 20% dello spessore se la muratura è maggiore di 30 cm 25% dello spessore se la muratura è minore di 30 cm e comunque il limite è di 6 cm quindi vedete con un po' giocando un po' con gli spessori vedete che l'arretramento è questo qua vi sottolineo l'arretramento sui 45 che è proprio la dimensione della muratura armata 2.0 di 9 cm cosa che vedremo poi ci permette anche di non avere nessun problema di eventuale punte termico a livello del cordolo il quale deve avere un'altezza pari all'altezza del solaio strutturale 4 barre F16 longitudinali e staff F6 ogni 25 cm vedete che anche un cordolo è una cosa ben diversa da una trave se vogliamo fare un parallelismo tra muratura portante e telaio altro elemento importante qual è nessuna regola per il metro d'angolo se utilizzo muratura armata non so se vedete le armature disposte alle estremità e agli angoli la presenza di questo sistema di armature verticali orizzontali con i cordoli già questo permette all'edificio di garantire i collegamenti necessari per portare al comportamento scattolare quindi la necessità del metro d'angolo non c'è posso arrivare con la parete e finirla lì con l'apertura di fianco o anche non avere nessuna parete passiamo adesso a parlare di quelli che sono le analisi e verifiche in maniera molto sintetica e veloce sempre focalizzando l'attenzione su quelli che sono i vantaggi che ci consente la muratura armata le analisi che possiamo utilizzare sono le classiche analisi per tutti i sistemi costruttivi analisi lineare statica dinamica non lineare statica e dinamica con modelli di tutti i tipi per quanto riguarda le analisi lineare lineari è importante è determinante oltre ad altri parametri ma è importante il fattore di comportamento Q innanzitutto è possibile fare progettazioni con comportamento non dissipativo in cui il fattore di comportamento Q però ha lo stato di limite di vita deve essere minore o uguale di 1,5 se vogliamo fare invece la progettazione con comportamento dissipativo possiamo andare oltre l'1,5 e nel caso della muratura armata ma anche muratura ordinaria sostanzialmente abbiamo delle costruzioni che possono tranquillamente essere mediamente dissipative infatti vengono classificate sostanzialmente in CDV e questi sono i fattori di comportamento per muratura ordinaria armata e ho messo anche per completezza di informazione armata con progettazione in capacità anche se trova difficile applicazione non abbiamo il tempo oggi di spiegare perché comunque concentriamoci sulla muratura ordinaria e armata vedete che il fattore di comportamento che ne deriva in funzione della regolarità in altezza piuttosto che regolarità in piano per la muratura ordinaria varia tra 1,89 e 2,98 per la muratura armata invece andiamo a 2,5 3,75 ma abbiamo dei fattori di comportamento che assomigliano addirittura a quelli che possono essere per le strutture in cemento armato ovviamente in classi di utilità bassa e quindi anche qui vedete che il gap dividere per 3,7 piuttosto che per 3 la stessa azione sismica mi può permettere di ottenere una verifica soddisfatto o no ma questo fattore di comportamento perché è così vantaggioso perché interpreta tutti i vantaggi che la muratura armata ha al di là della resistenza la capacità di spostamento la duttilità la dissipazione di energia se passiamo alle analisi non lineari un parametro determinante è certamente la capacità di spostamento che viene definita con le nuove norme tecniche 2018 lo stato limite di collasso in questo caso vedete che si considerano i due diversi meccanismi presso flessione e taglio di cui abbiamo parlato prima per la muratura ordinaria 1% 0,5% massima capacità di spostamento la muratura armata quasi la raddoppia passa all'1,6 e 0,8% segnalo poi che indipendentemente dall'analisi che uno esegue vanno verificate allo stato limite di esercizio in termini di rigidezza quindi gli spostamenti per la muratura ordinaria e armata in base alla classe di uso dell'edificio allo stato limite di danno il 2x1000 per la muratura ordinaria in termini di drift quindi è spostamento sull'altezza e per la muratura armata è parecchio più alto un terzo più alto quindi 3x1000 stessi parametri ridotti al 2 terzi se stiamo facendo un edificio di importanza rilevante e in questo caso si lavora allo stato limite di operatività perché per edifici di questo tipo allo stato limite di danno già si fa la verifica in resistenza quindi vedete che la muratura armata ha veramente tanti vantaggi ecco qua arriviamo al grafico secondo me che vi fa capire in un attimo il vantaggio della muratura armata rispetto alla muratura ordinaria l'edificio che abbiamo visto prima in cui vi mostravo la distribuzione delle armature verticali è rappresentato da queste curve di capacità abbiamo realizzato un'analisi non lineare dunque vedete che direzione x il blu direzione y in rosso quelle tratteggiate più basse sono la muratura ordinaria stessa muratura ordinaria ma con l'armatura inserita quindi si passa a muratura armata vedete che c'è sostanzialmente un raddoppio della resistenza ma questo non è l'unico parametro c'è anche una quasi quadruplicazione triplicazione diciamo delle capacità di spostamento quindi tutto questo significa migliorare di molto il comportamento e la reazione alle azioni sismiche un altro aspetto molto interessante sono le strutture miste allora la normativa prevede per le costruzioni di muratura la possibilità di realizzare strutture miste che per la muratura armata sono particolarmente adatte sostanzialmente realizzare pareti perimetrali in muratura armata con magari un pilastro interno che libera la distribuzione degli ambienti interni o anche porticati esterni è ottimale diciamo come distribuzione il tutto è agevolato dal fatto che l'importante è che l'azione sismica venga presa dai sistemi di muratura armata posso anche decidere di far collaborare le due diverse tecnologie quindi il telaietto in CA con le pareti in muratura armata in questo caso però per tener conto della collaborazione devo necessariamente utilizzare analisi non lineari d'altro canto diciamo che per le tipologie tipiche di strutture miste spesso si può anche tranquillamente fare analisi lineari di solito dinamiche lineari così si tengono conto di diversi modi di vibrare e la muratura armata risulta più che sufficiente passiamo adesso a un tema ma è caro quello delle costruzioni semplici con tre slide progettiamo un edificio le costruzioni semplici si possono fare in muratura ordinaria ma oggi focalizzeremo l'attenzione sulla muratura armata sostanzialmente con tre slide progettiamo un edificio in muratura armata che ha anche delle ottime possibilità perché posso arrivare fino a quattro piani in terasse non devo superare i tre metri e mezzo posso avere anche snellesse elevate di 15 l'unica verifica da svolgere è questa disuguaglianza cioè devo vedere che il carico che mi arriva in fondazione diviso per 65 l'area delle pareti resistenti sia minore della resistenza compressione quindi veramente una disuguaglianza molto semplice e con questa slide già abbiamo finito la progettazione per le azioni non sismiche altre due slide per la progettazione per azioni sismiche tanto è rilevante osservare che si può applicare questo tipo di progettazione estremamente semplificata solo fino a costruzioni che si trovano in zona con AGS minore uguale 0,35 g allo stato di limite di vita che comunque copre quasi la totalità del territorio italiano quindi ci sono altre regole geometriche abbastanza semplici bisogna avere pareti in tutte e due le direzioni primarie x e y queste pareti possono avere delle forature non più del 50% quindi 50% finestra e porte 50% muro e queste due pareti devono essere distanti da loro almeno il 75% della dimensione dell'edificio in quella direzione se sto facendo pareti perimetrali la distanza è del 100% quindi non ho problemi sono consentiti anche strutture miste sostanzialmente l'importante è che su altre tecnologie si gravino non più del 25% dei carichi verticali quindi almeno il 75% deve andare sulla muratura armata dopodiché c'è l'interasse che vedete 7 metri per la muratura ordinaria 9 per la muratura armata 9 metri di interasse insomma è un interasse veramente elevato in tanti casi è la luce del solaio che ci fa scegliere almeno per edifici di piccola media dimensione interassi minori infine c'è una diseguaglianza del tutto analoga a quella di prima solo che sostanzialmente utilizzano le combinazioni sismiche e a questo punto la tabella che ci fornisce la percentuale minima di armatura resistente che deve essere garantita in entrambe le direzioni in direzione x e in direzione y in questa tabella molto semplice si entra con l'accelerazione di picco al suolo a g per s ipotizziamo 0,18 g si entra in questa colonna voglio fare due piani in muratura armata devo garantire il 3,5% di muratura 3,5% di muratura in direzione x e 3,5% in direzione y questa percentuale come si calcola banalmente la somma di tutte le aree delle pareti resistenti in direzione x diviso l'area di impalcato esclusi gli aggetti espresso in percentuale quella lì è la percentuale della muratura in direzione x analogamente in direzione y devo garantire che entrambi siano superiori al 3,5% anche qui vi faccio vedere il confronto con la muratura ordinaria stesso identico edificio stessa zona sismica 5% quindi molto di più il 3,5% è una quantità di muratura che è direi facilmente raggiungibile e vedete che poi anche aumentando la pericolosità sismica si passa tutta il più al 4% che è ancora facilmente raggiungibile quindi ecco costruzioni semplici tra slide si progetta l'edificio se non si rispettano proprio tutte queste regole che sono appunto come abbiamo visto proprio regole geometriche è sempre possibile utilizzare questo metodo come predimensionamento inizio a prendere le dimensioni insomma dell'edificio che vado a progettare poi eseguirò l'analisi estesa con un'analisi lineare piuttosto che con un'analisi non lineare in base magari anche al software che ho a disposizione passiamo quindi adesso a vedere dei dettagli costruttivi degli esempi per la muratura armata beh anche questo bisogna sempre farlo vedere nel senso per la muratura ordinaria ma anche per la muratura armata ma dire la verità anche per le murature di tamponamento questi non sono assemblamenti di murature tessiture e murarie che vanno bene assolutamente no il giunto di malta verticale deve essere realizzato non si deve vedere attraverso e in quota soprattutto per le murature portanti in quota bisogna andare a tagliare il blocco o tutta il più se uno proprio vuole va a mettere un elemento più basso ma sempre semipieno con proprietà meccaniche adeguate andiamo invece adesso alla fondazione la fondazione e qui facciamo anche un piccolo contatto con gli aspetti termici e lo sviluppo dei dettagli costruttivi sicuramente è importante dal punto di vista termico ma è importante anche dal punto di vista strutturale quindi parlando dell'attacco alla fondazione non bisogna considerare per risolvere il ponte termico un taglio termico con materiale diverso anche perché tante volte manco ce n'è bisogno come mostra questa analisi qua sostanzialmente non c'è problema del ponte termico ma se io voglio fare un miglioramento o per carità a volte può anche capitare che dall'analisi numerica del ponte termico mi serva un miglioramento devo utilizzare la stessa muratura e riempire la foratura con perlette sfuse questo mi fa fare il miglioramento necessario per risolvere sotto tutti i punti di vista dal punto di vista termico scusate il ponte termico anche con accordi coerentemente con quelle che sono le richieste per esempio di standard molto stringenti come quello di casa clima parlando dell'attacco in fondazione mi dai la comunque a parlare anche dell'ancoraggio delle armature verticali sostanzialmente esistono due modi per ancorare le armature verticali dopo che è stato fatto il getto quindi si va a forare si va a ripulire bene il buco si inserisce la resina l'ancoraggio chimico sostanzialmente e si inserisce l'armatura ecco in tutte queste fasi la parte più importante è quella della pulizia della pulizia del foro l'altra possibilità è quella di lasciare le chiamate prima di gettare la fondazione come in questo caso specifico e in questo caso appunto vedete le chiamate prima del getto della platea che poi a fine getto rimangono a disposizione per partire intorno si costruisce l'armatura e si inserisce l'armatura verticale questo è l'opportuna sovrapposizione dell'armatura verticale di circa 60 diametri qua vedete anche un dettaglio che riguarda l'impermeabilizzazione se ci sono problemi di risalita capillare di acqua è possibile disporre una catramina quindi una membrana liquida di impermeabilizzazione sopra cui anche si può utilizzare una malta idrofuga o anche semplicemente utilizzare una malta idrofuga insomma da questo punto di vista i metodi sono vari e vanno valutati di volta in volta in base alle specifiche esigenze torniamo a un altro dettaglio costruttivo da un punto di vista termico allora qui vedete il dettaglio costruttivo dell'angolo con la muratura classica muratura bright che appunto viene ad avere il blocco ac una volta rotta la cartellina il minimo è un fi 16 all'angolo però noi abbiamo considerato anche la possibilità di posizionare secondo punto d'armatura quindi l'analisi del ponte termico la parete ha una stratigrafia che ci permette di stare in zona climatica e vedete un ponte termico ampiamente risolto il l'FRSI pari a 0849 è molto alto questo è il fattore di temperatura superficiale interna tendenzialmente una volta che questo fattore dipende da ogni luogo c'è il suo che va calcolato appunto in base alla temperatura umidità dei singoli luoghi però tendenzialmente quando questo valore qua è maggiore di 0,7 col ponte termico siamo al sicuro non abbiamo formazioni di muffe né tanto meno di condense quindi siamo a posto e analogamente per l'attacco col solaio valore anche più alto per la muratura armata 2.0 che l'altro sistema vi ho fatto vedere oggi appunto da sola senza l'utilizzo di isolante raggiunge prestazioni termiche ragguardevoli 025G che quindi ci permette di andare in zona climatica senza problemi e abbiamo un FRSI di 080 e anche superiore anche con l'attacco al solaio ampiamente superiore al limite che possiamo considerare di 007 appunto che vi davo come riferimento e qua è interessante vedere che viene sfruttato appieno l'arretramento del cordolo con i 9 cm utilizzando anche una tabellina esterna per dare di 3 cm per dare continuità alla superficie esterna da intonacare e vedete che il ponte termico risulta risolto adesso sostanzialmente abbiamo quasi concluso e qui vi riporto un po' di esempi che abbiamo pubblicato di muratura armata ecco qua c'è l'esempio che vi dicevo questo è uno dei professionisti che utilizza l'armatura orizzontale nello stesso giunto si può fare l'importante è cercare di utilizzare due F6 e poi correttamente inserire la malta che deve sempre conglobare l'armatura e questo è un edificio anche abbastanza irregolare pur essendo una villetta ha delle particolarità molto rilevanti sia in pianta che in alzato zona sismica 2 nessun problema progettato realizzato tra l'altro anche con un pilastro interno questo è una struttura mista per antonomasia direi perché vedete questo lato ha una porzione di pilastro e telaio che va da fondazione fino alla sommità invece tutto il resto è in muratura armata e vedete anche potete un po' almeno intuire la quantità di armatura che è sempre abbastanza contenuta chi volesse approfondire qui ci sono tutti i riferimenti questo è interessante sottolineare che è un edificio che ha anche superato il terremoto dell'Emilia 2012 senza nessun problema è una trefamiliare quindi abbiamo informazioni vedete anche su edifici realizzati con struttura mista muratura armata telaio in CA in questo caso è stato calcolato con analisi non lineare poi abbiamo delle scuole questa è una ricostruzione di una scuola post terremoto Emilia questa invece è una scuola realizzata in Puglia un po' di immagini chi volesse approfondire qua ci sono tutti i riferimenti un'altra applicazione molto interessante per la muratura armata è certamente quella di ristrutturazione miglioramento adeguamento intendo con gli effetti del sisma bonus e magari con quello che sarà il decreto rilancio risulta interessante la demolizione ricostruzione senza dubbio perché permette di raggiungere prestazioni impensabili dal punto di vista strutturale termico acustico qualità in generale ma la muratura armata è particolarmente adatta anche per interventi sui edifici esistenti in termini di ristrutturazione e miglioramento immaginate quello che di solito si fa inserendo set in CA si può tranquillamente farlo inserendo murature armate opportunamente armate e posizionate all'interno dell'edificio chiaro che bisogna fare lavori pesanti d'altro canto se uno interviene inserendo telai in acciaio piuttosto che set in CA i lavori pesanti ci sono comunque questa è un'interessante applicazione della muratura armata che tra l'altro ha consentito al progettista di aggiudicarsi il secondo premio al concorso premio Porton 2019 hanno sopraelevato la torre per riportarla alle antiche dimensioni utilizzando proprio la muratura armata e opportunamente intervenendo sulla parte sottostante questo ha consentito oltretutto di alleggerire perché qua stiamo parlando di murature in pietra di 60 cm di spessore garantendo poi l'effetto estetico è una omogeneità anche strutturale che volesse approfondire la pubblicazione qua segnalo a tutti i partecipanti al seminario di oggi al webinar di oggi che stiamo lavorando sulla seconda edizione del premio Porton e quindi iniziate ad archiviare dei progetti per partecipare anche perché ci saranno delle sorprese interessanti credo per i progettisti con questo siamo arrivati alla conclusione sintetizzo velocemente quello che abbiamo visto siamo partiti dal definire i concetti basilari e poi le normative i materiali le regole le regole che ci permettono di realizzare correttamente la muratura armata vedendo anche sistemi innovativi come la muratura armata 2.0 abbiamo visto anche i riscontri sul territorio in seguito ai eventi sismici quindi la risposta di edifici veri progettati secondo normativa e realizzati secondo la regola dell'arte in relazione a terremoti veri abbiamo visto nel dettaglio poi tutti quelli che sono i parametri meccanici da utilizzare per la muratura armata e quali sono i grossi vantaggi che dà anche rispetto alla muratura ordinaria e i concetti di organizzazione strutturale di regole di dettaglio che un po' si portano dietro dai concetti generali della muratura portante fino ad arrivare alle costruzioni semplici che oltre a essere un metodo di progettazione che con tre slide ci permette di fare il progetto di un edificio operazioni non sismiche sismiche può essere anche opportunamente utilizzato come metodo di predimensionamento e abbiamo visto infine appunto quel punto di congiunzione tra aspetti meramente strutturali e aspetti invece anche termici il punto di contatto sono i dettagli costruttivi che abbiamo visto abbiamo concluso con degli esempi delle realizzazioni di cui insomma vi ho lasciato i riferimenti e qualche spunto su come utilizzare la muratura armata con questo ho concluso benissimo grazie a Flavio Mosele vedo che è ritornato con noi anche Luca Mazzucchelli e vi cominciamo allora l'ultima minuti di questo webinar dedicati alle domande alle risposte che ci sono arrivate numerose dai partecipanti di questa sera iniziamo innanzitutto da un chiarimento che riguarda la muratura armata abbiamo visto anche in qualcuna delle ultime slide le slide verso la fine scusate di due diversi sistemi di muratura armata messa a confronto anche con quella che ha un nome commerciale di muratura armata 2.0 ecco mi riferivo proprio anche a questa slide la scelta fra i due diversi tipi di muratura come avviene come un progettista può regolarsi nella scelta di uno o l'altro sistema non so se vuole rispondere Luca Mazzucchelli ma allora lì dipende un po' dalla necessità di progettazione del singolo progetto vediamo con la muratura armata bright stiamo in uno spessore di 38 cm sotto ci vogliono 45 cm però magari qualcuno che preferisce non avere il cappotto e una monomuratura quindi con una semplice posa arrivare a un'unica soluzione allora ci si può spostare verso la muratura armata 2.0 o se ho la necessità di inserire molto più ferro e quindi un'armatura verticale più più fit e più intensa allora con la muratura armata 2.0 mi permette di risolvere dei nodi che magari con l'altra muratura non riesco a completamente risolvere poi lì in base alla tipologia di progetto noi siamo in grado di consigliare una soluzione piuttosto che un'altra ecco non so se Flavio poi vuole aggiungere qualcosa però fondamentalmente proprio no sostanzialmente sì sostanzialmente confermo nel senso che sono ottimi sistemi e con la muratura armata 2.0 il primo vantaggio in assoluto è quello che un'unica posa si completa un muro che non ha bisogno di nient'altro su cui insomma abbiamo prestazioni termiche devo dire elevate garanzia di sicurezza strutturale quindi la scelta diciamo va fatta progetto su progetto e anche confrontandosi dal punto di vista del progettista con la committenza magari anche con l'impresa che può preferire un sistema rispetto all'altro quindi sì validi entrambi per quanto riguarda invece gli impianti le tracce impiantistiche si possono fare nella muratura armata e se sì come anche nel senso che ci sono imposizionalmente dei ferri sì allora diciamo le armature orizzontali ma allora le armature verticali innanzitutto sono sempre vediamo se ho un'immagine le armature verticali sono sempre al centro della parete sostanzialmente o lì vicino nel caso anche della muratura armata 2.0 sono al centro della parete e le armature orizzontali invece sono disassate rispetto alla parete ma sostanzialmente stanno sempre quei 5 cm all'interno del filo esterno quindi poi ci va anche l'intonaco quindi cosa si può fare si possono fare tutti gli impianti impianti elettrici tutti gli impianti di piccola dimensione ovviamente sempre fatti con criterio cura nel senso bisogna evitare la traccia orizzontale lunga tutte le parete se no crea appunto questo effetto di taglio in orizzontale si deve portare in orizzontale all'interno del massetto e poi salire eventuali spostamenti in orizzontali sono consentiti dopo va richiusa in malta adeguatamente e quindi questo genere di impianti si può fare tranquillamente invece impianti un po' più grossi non so immagino cavedi per cane fumarie scarichi sfiati cose di questo tipo sarebbe bene e bene prevederli anche in fase di progetto possono in qualche caso essere conglobati nella muratura in altri casi è necessario sapere dove si trovano perché quella diventa sostanzialmente un'apertura da un punto di vista strutturale magari intorno vado a finire la parete con una tavella in laterizio cose di questo tipo però da un punto di vista strutturale se ho una fila una canna fumaria e uno sfiato uno scarico qualcosa lì insieme che mi occupano 50 cm quelli li devo li devo conoscere dal punto di vista strutturale e togliere prevedere sì prevedere un'altra domanda come in realtà aggiungo solo sta cosa come in realtà tendenzialmente adesso dal punto di vista progettuale si fa sta cosa quindi si cerca anche di portarla proprio fuori dalla struttura creando dei cavedi ad hoc aggiungo che non so se uno deve fare nel bagno lo sciacquone all'interno della parete è bene fare una controparete insomma perché più si inizia ad andare a incidere più rischiamo addirittura di trovare il ferro qualcuno ci chiede se è possibile avere l'indirizzo per scaricare il software a cui hai accennato non capisco quale software l'app l'app 2 beh ho parlato dell'app 2 dopo ho fatto vedere delle altre vediamo se vediamo se è scritto nelle slide direttamente ah no no magari lo aggiungo qua sotto però lo farei anche se no se no lo faccio vedere in diretta visto se posso farlo vedere in diretta se no diamo spazio intanto beh ok fammi pure legge pure altre domande io intanto faccio vedere allora ci chiedono anche se è possibile avere un confronto tra il costo di una struttura in muratura armata 2.0 per un edificio di due piani rispetto a una struttura con il calcetto armato quindi con delaiatura diciamo ecco prima della risposta che sarà sicuramente di Luca certo on page consorzio poroton qua in alto a destra poroton app poroton app 2 basta registrarsi e poi si utilizza tutto qua prego prego Luca ecco non per fare il prezioso però anche qui se ci contattano noi sicuramente possiamo fornire tutte le informazioni economiche del caso anche perché ripeto ogni progetto ha la sua particolarità e la sua casistica comunque non abbiamo nessun tipo anzi le abbiamo già fatte le abbiamo già pronte però sono delle cose standard poi devono essere stese alla tipologia del progetto in questione comunque non ci sono nessun tipo di problemi sicuramente andiamo a risparmiare dei soldi perché non c'è tutta la fase di casseratura tutta la quantità di calcestruzzo che serve nella struttura in telaiata e serve solo il getto minimo all'interno del pilastro che si viene a formare nel cassero preformato ok ti ordinando ti vedo bloccato anch'io forse ho avuto un problema di linea ecco ricordo a tutti i partecipanti che comunque l'indirizzo mail a cui mandare le eventuali richieste è questo scritto in sovraimpressione quindi tecnico t2d chiocciela tcla.td oppure chiamando direttamente al numero di telefono risponderà il nostro responsabile del marketing il quale vi potrà già iniziare a dare le indicazioni o smistare la chiamata ai vari tecnici che abbiamo sul territorio eccoci è ritornato Ferdinando se 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 non Ferdinando non riesce più a entrare in collegamento io ringrazio tutti ringrazio Flavio per la sua disponibilità e vediamo se Ferdinando si riesce a collegare eccomi Ferdinando legame niente non non si riesce faccio un saluto a tutti e vi ringrazio Ferdinando niente vedete che ha problemi di di linea penso di sì non so ci facciamo qualche domanda se no chiudiamo chiudiamo eventualmente il webinar e lasciamo spazio agli eventuali richieste sulla via mail mi sa che è l'unica anche perché non avendo sott'occhio le domande ma il moderatore il gestore della webinar non si può fare diversamente al massimo aspettiamo qualche aspettamento non si sente la voce si vede io tu lo vedi in video ora io in video riesco a vederlo ma si blocca mi sa che aggiungo soltanto sul sito T2D comunque potete già prendere visione di tutto quello che è stato presentato oggi dall'ingegnere Mosele potete anche vedere il Safety Lab 2 come presentazione per quanto riguarda la ricerca fatta sul territorio dell'ultimo sisma dell'ultimo ente sisma vediamo passiamo la parola a Ferdinando se riesce no niente saluto tutti e vi sentite adesso sì abbiamo qualche stavamo salutando allora se mi sentite vi giro ancora una domanda sì sì beh per la verità vedo che molti ci stanno chiedendo se eravamo in conclusione siamo un po' oltre l'orario in effetti allora ci sono alcune domande puntuali ma direi che come ha detto anche prima Luca Mazzucchelli potete fare riferimento ai tecnici a lui stesso anche attraverso i contatti che vedete qui quindi soprattutto per alcune domande molto specifiche di intervento su edifici esistenti in cui ad esempio ci chiedono se sia possibile operare un ampliamento in muratura armata in adiacenza in una struttura in muratura in tufo ovviamente è difficile immagino anche dare una risposta precisa senza conoscere esattamente la situazione vedere i disegni quant'altro capire le caratteristiche e anche però possiamo dare una risposta invece su quelle che sono le prestazioni termiche perché qualcuno ci chiede se la muratura armata permesso ci dice che dal punto di vista della trasmittanza potrebbe già dare ottimi risultati se sia stata attestata comunque anche con l'applicazione di un cappotto parli della muratura armata 2.0 sì ci chiedono se sia possibile comunque inserire un cappotto aggiunto assolutamente sì è sicuramente un valore aggiunto alla struttura se Flavio fa vedere ecco qua vediamo la muratura armata bright spessore 30 quindi l'atterizzio da 30 cm è stato attaccato un cappotto da 8 cm se alla muratura armata 2.0 che abbiamo già una trasmittanza di 0,25 ci attacchiamo anche solo un cappotto da 4-5 cm sicuramente porteremo il tutto a una trasmittanza verosimile intorno allo 0,20 quindi riusciamo ad abbassare quello che è il valore di trasmittanza se poi andiamo a salire con lo spessore del cappotto logicamente la trasmittanza tenderà a scendere nessuno vieta assolutamente questo discorso sì aggiungo tutto corretto infatti la muratura armata 2.0 da sto punto di vista qua è del tutto una muratura inatterizzio su cui si può realizzare cappotto su cui si possono mettere facciate ventilate cioè tutto uguale tutto quello che è una parentesi una parentesi riguardo alla muratura in tuffo eccetera senza dubbio bisogna vedere il caso specifico in linea di concetto affiancarla sì si può sopraelevare dipende tutto da quello che c'è sotto che tutt'al più va rinforzato quindi la possibilità in linea generale c'è dopo bisogna verificare le condizioni specifiche benissimo direi che allora possiamo chiudere senza tenere impegnate i partecipanti che vedo comunque ancora numerosi forse Flavio puoi mettere l'ultima slide per i contatti vi ricordo che comunque sul sito del consorzio Porton potete trovare argomenti documentazione software da scaricare che ha indicato prima all'ingegner Mosele e dandovi ringraziandovi per l'attenzione vi ci diamo appuntamento magari a prossima occasione in cui potremmo ulteriormente approfondire le questioni che riguardano la muratura armata io ringrazio ancora l'ingegner Flavio Mosele del consorzio Porton e l'architetto Luca Mazzucchelli di T2T buonasera a tutti buonasera a tutti grazie a tutti Grazie.